Due determine firmate dal Direttore Generale per la Salute Lolita Gallo, la numero 220 e il numero 221 del 14 novembre 2018, per liquidare alla Fondazione Giovanni Paolo II il saldo definitivo relativo alle prestazioni erogate negli anni 2015 e 2016. Si tratta di un importo complessivo pari a 6.235.908,63 centesimi, così suddivisi 2.827.795,94 centesimi per l'anno 2015 e 3.408.112,69 centesimi per l'anno 2016. Naturalmente si tratta solo di importi a saldo, poiché erano già state accreditate le spettanze di acconto pari al 95%. Nelle due determine Lolita Gallo dà atto circa un verbale di chiusura relativo all'archivio delle schede di dismissione ospedaliera dei pazienti con il quale è stato quantificato il valore delle prestazioni erogate dalla Fondazione e da atto della fatturazione e del riepilogo delle attività svolte trasmesso dalla stessa Fondazione. Infine, la dottoressa Lolita Gallo prende atto di un documento redatto dal competente servizio denominato livelli massimi di finanziamento della stessa Direzione Generale per la Salute con il quale sono stati formulati i controlli sull'attività ospedaliera erogata dalla struttura di contrada Tappino. Per quanto ci riguarda, non esprimiamo alcun giudizio sulle prestazioni eccellenti erogate dalla Fondazione, ma chiediamo al Direttore Generale per la Salute Lolita Gallo che tipi di controlli sono stati effettuati e come hanno potuto avere esito positivo considerato che proprio negli anni 2015 e 2016 è stata acclarata la mancanza del Direttore Sanitario in quanto il dottor Zappia non aveva i titoli per ricoprire tale incarico. Tra l'altro, secondo i ben informati, la dottoressa Gallo sarebbe stata ascoltata dagli organi inquirenti nell'ambito delle indagini in corso proprio sulla mancanza dei requisiti del Direttore Sanitario e sulla mancanza di altri requisiti per l'accreditamento. È da sottolineare che rispetto al budget assegnato, il saldo pari al 5% del totale viene erogato solo se le strutture accreditate risultano in regola con gli obblighi previsti dalle norme in vigore e dal contratto. Una considerazione finale è d'obbligo. Come mai la Direzione Regionale per la Salute, considerato le vicende in itinere, ha liquidato il saldo prima della nomina del Commissario Araccheta? Non è paradossale che la mancanza di tale figura blocchi tutto il sistema sanitario regionale e non il pagamento delle spettanze alle strutture private accreditate soggette a indagini da parte degli organi inquirenti?